Senza non poche crisi, sono arrivato finalmente adesso a comunicarvi che sono troppo felice del fatto che in qualche modo questa roba mi sento di averla sconfitta finalmente. E baffan... Lo vedete quello? È il sole che tramonta e alle sue spalle si porta un'altra settimana. E questo sapete che cosa vuol dire? È giunto il momento di fare il resoconto di tutto. Quindi da una stradina di un paesino della Cambogia, benvenuti nel format... Oggi usiamo questo condizionatore come sedia. Eccoci qua di nuovo! Per chi non lo sapesse, questo format è appunto il format del mio diario, dove vi dico un po' cosa va, cosa non va, cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo. È un po' come un diario, comincio a parlare senza nulla di preparato per poi alla fine raggiungere delle conclusioni. Sostanzialmente vi racconto i cazzi miei! Rispondiamo alla domanda di Rito. Come sta andando? Ormai sono passati due mesi e mezzo quasi da quando sono partito e le fasi attraversate sono state tantissime. Cioè veramente tantissime. Da una prima fase di eccitazione, da una successiva fase di panico, di non sapere come fare le cose. Una terza fase un po' più tranquilla, che era una via di mezzo. Poi c'è stata una quarta fase che ho vissuto settimana scorsa, in realtà fino a qualche giorno fa, dove mi sembrava veramente che mi stesse crollando il mondo addosso. Ho continuato a pubblicare contenuti, però a un certo punto sentivo tutto molto, ma molto, ma molto pesante. Stavo quasi per mollare, quindi smettere di pubblicare i contenuti, ma non tanto per una questione fisica, ma per una questione proprio di testa. Come l'ho risolta, in tanti modi, ci sono state tante persone che mi hanno aiutato, facendo chiamate, call, eccetera, eccetera. Quindi avendo degli spunti esterni. E in più c'è stata una cosa fondamentale, ovvero dormire. Per tre, quattro giorni ho praticamente dormito quasi tutto il giorno. Mi sono completamente ripreso, nemmeno rilassato, cioè proprio ripreso, perché mi ero reso conto che negli ultimi 50 e passa video non mi ero mai fermato, ma nemmeno un istante. E poi qui non c'è soltanto la questione di dover realizzare dei video, e quindi di continuare a cercare cose tutti i giorni. Quello è relativo. La questione che impatta tantissimo è il fatto di doversi spostare ogni volta. E come avete ben visto, gli spostamenti che faccio non sono mai soft, o raramente sono soft. Se proprio vi devo dire, uno spostamento soft, uno dei pochissimi, è stato passare dalla città dove stavo prima, in Cambogia, per venire qui, in una città un po' più isolata, dall'altra parte della Cambogia, proprio dall'altra parte. Mi sono letteralmente ripreso, ho preso una stanza d'hotel, pagata un po' di più di un ostello, cioè per farvi capire, un ostello costa 5 euro, 6 euro, 7 euro, questa stanza l'ho pagata tipo 13 euro. Però in questo modo lascio l'aria condizionata, sto da solo, posso lavorare, posso ordinare le mie cose, e mi sono reso conto che questa cosa è stata fondamentale. Cioè avevo proprio bisogno di avere un attimo i miei spazi, e di dormire in un letto senza nessun intorno, niente di niente. E la parola d'ordine è dormire. Detto ciò, mi sono letteralmente sorpreso dal fatto che il giorno prima dicevo adesso mi prendo una settimana di pausa con i video, faccio un video dove dico sono esausto, non da un punto di vista fisico, ma da un punto di vista proprio mentale. Cioè stavo arrivando a quella roba lì, poi ho dormito un bel po' ed è cambiato tutto. Mi sono svegliato con nuove energie, sembro quasi più energico di quando ho cominciato il viaggio. E questa cosa è una figata incredibile. Molto spesso non è che non abbiamo più voglia di fare le cose, ma abbiamo semplicemente bisogno di riposarci. Poi come vi dicevo prima, ho attraversato tante fasi, e quest'ultima che vi ho descritto non era soltanto in relazione al fatto che stavo andando in burnout, ma anche in relazione a che approccio nella realizzazione di contenuti per comunicarvi delle cose. E qui mi sto rendendo conto che YouTube è uno strumento incredibilmente potente, e allo stesso tempo a me dà proprio l'impressione di essere uno strumento, per golette, spirituale per certi versi, perché veramente devi combattere e devi sconfiggere soprattutto, che è la cosa più importante, tutte le tue ansie, le paure, le preoccupazioni che ci sono nel fare questa cosa. E di conseguenza le vai a eliminare per tanti aspetti della vita. Il fatto di impegnarsi ogni giorno per realizzare qualcosa, poi pubblicarla e vedere i risultati che arrivano, che comunque sono piccoli rispetto a quelli che dovrebbero essere per far funzionare realmente la cosa da un punto di vista economico. Quindi cosa voglio dire con questo? Che come ho detto in tantissimi altri video, per me anche se i video venissero visti da soli 5 persone, va bene. Sono contentissimo che 5 persone dedicano il loro tempo a vedere i miei contenuti, è una cosa che apprezzo tantissimo. Allo stesso tempo, se questa cosa deve funzionare nel tempo, capiamo bene che è un po' complicato con questa poca affluenza di persone. E tutto questo ti porta, per forza di cose, a combattere con te stesso e dire ma sto facendo la cosa giusta, non sto facendo la cosa giusta, ah, però gli altri fanno le cose più fighe, però gli altri fanno questo che funziona, però questo, però quell'altro, ma come è possibile? Ho fatto questo contenuto, le cose, cioè, i grafici vanno bene, però il contenuto non parte. Poi a un certo punto, devo dire la verità, pensando un po' che crisi, sono arrivato finalmente adesso a comunicarvi che sono troppo felice del fatto che, in qualche modo, questa roba mi sento, almeno adesso, la percezione che ho di averla sconfitta finalmente. E va a f***o culo. Che può sembrare una cosa banale, ma è una cosa potentissima. Perché adesso ho la possibilità, cosa che, in qualche modo, facevo prima, ovviamente, perché sennò tutti i contenuti che ho fatto non li avrei potuti fare, però allo stesso tempo c'era anche questa parte. A cosa mi sto riferendo? Al fatto che adesso l'unica cosa su cui veramente sono focalizzato è sul fare dei bei contenuti. Tutto il resto non esiste, perché tutte le conseguenze che vengono dopo sono cose con il quale non ci posso avere, come dire, un controllo. L'unico controllo che posso avere, in qualche modo, è poter far sì che i contenuti vengano realizzati al meglio possibile. Cioè, creare un mattone perfetto e posizionarli in maniera perfetta. Poi, la casa verrà di suo. E anche se questa era una consapevolezza a cui ero già arrivato prima, in qualche modo, cioè, volevo concentrarmi solo su realizzare i contenuti alla perfezione, però le ansie, le paure, le preoccupazioni, come dire, non è che se ne vanno così perché tu sai che devi fare una cosa. È un processo lento, lungo, pesante, fra le tante persone che mi hanno aiutato e che mi stanno aiutando in questo processo. Cosa che non ho mai nascosto, anzi, spero un giorno di poterci fare un video dedicato perché penso che sia una cosa potentissima. Una delle tante persone che mi sta aiutando è il mio psicologo. E ci vediamo una volta ogni due settimane. Facciamo puntamento dall'altra parte del mondo. Però è incredibile il lavoro che stia facendo con lui. È veramente bellissimo. Se stai vedendo questo video, sappi che ti sono un sacco grato per tutto. Bisogna comunque ricordarsi che quando si fanno dei percorsi psicologici non è lo psicologo che ti risolve i problemi. Ti aiuta a capire in profondità e a toccare dei punti specifici per arrivare a delle consapevolezze. Poi sta tutto a te. Sono molto grato del fatto che in qualche modo un pezzettino alla volta, un pezzettino alla volta, un aggiustamento di qua, un aggiustamento di là, un mattoncino di qua, un video fatto bene, un video così, un video che magari è andato pure di merda per come l'ho realizzato, che non volevo realizzarlo così, però un po' così, un po' così, un po' così. A me dà sempre l'impressione che ancora non è costruita, però sta casa non è una casa, è un villone, è un grattacielo, sarà una cosa fantastica. Mi sono chiaramente convinto. Cioè, proprio ho fede di questa cosa perché non è possibile. Voi adesso state vedendo i video magari da due mesi. Per chi è più fortunato mi sta seguendo dall'inizio del canale, ma tutto sto processo è cominciato anni e anni prima. Vabbè, poi magari un giorno ci faccio un video dedicato. Cioè, è troppo figo quando un pezzettino alla volta, passo dopo passo, con le persone giuste, col giusto atteggiamento, sconfiggi le tue ansie, le tue paure sempre di più e vai avanti. E la cosa che vorrei comunicarvi adesso, dopo che ho fatto tutto sto discorso, mi viene da dirvi, è che sono sempre stato il primo che pensava che le cose si risolvessero così. Pam! Subito! Cioè, faccio quello, risolvo. Faccio quell'altro, risolvo. Però in realtà la vita non funziona così. Quando ci sono delle cose importanti, hanno bisogno del loro tempo, hanno bisogno dei loro giusti processi. E soprattutto, molto spesso, le persone che vogliono fare uno step successivo, invece di dire questa cosa non si può fare, cominciano a pensare cosa posso fare, come posso risolvere. Ve ne aggiungo un'altra di frase che uso. Qual è la persona che mi può aiutare o le persone che mi possono aiutare per far sì che posso fare lo step successivo. Perché ricordiamoci sempre che sì, fighissimo impegnarsi di andare avanti da soli e fare tutta una serie di cose, solo che voglio ricordare a me stesso e voglio condividerlo con voi il fatto che puoi essere forte quanto vuoi tu, puoi essere un genio quanto vuoi tu, ma senza l'aiuto delle persone giuste non vai mai avanti. cioè non puoi fare lo step successivo. È un po' come, non lo so, vi allenate per una maratona, se non c'hai il giusto allenatore non otterrai determinati risultati, se vai in palestra e non c'hai la giusta persona che ti segue non otterrai quei risultati. Adesso ho preso degli esempi sportivi, ma nella vita la cosa figa dal mio punto di vista è circondarsi di tante persone diverse che vi possono aiutare in tanti modi diversi. Quel tempo mi sento di starmi circondato sempre di più di persone che mi sostengono e mi aiutano e mi danno spunti nuovi su tante cose diverse e questa cosa è bellissima. Se state vedendo questo video, riferite a tutti i miei amici che stanno vedendo questo video, sappiate che mi sono estremamente grato. Concludo condividendo con voi il fatto che figo impegnarsi, figo andare avanti, ma se vogliamo fare uno step successivo abbiamo bisogno dell'aiuto degli altri. Ricordo sempre che tutto quello che sto dicendo in questo format lo dico prima a me stesso e poi lo condivido con voi. Potrei dire una maronna di cazzate. quindi se c'è qualcosa che non vi suona scrivetemi nei commenti o anche in privato, rispondo sempre. Il mio invito è circondatevi di persone che vi stimolano, circondatevi di persone che vi aiutano a progredire. siamo troppo spesso circondati da persone che non ci aiutano a progredire, di persone che non vogliamo vedere, però noi siamo circondati. Gruppo di amici, l'amico così, l'amico così. Per il bene vostro e per il bene mio ci sono persone che per quanto vogliamo bene dobbiamo un po' escludere dalla nostra vita se vogliamo progredire. È difficile, però senza le persone giuste è difficile fare lo step successivo. Grazie a tutti.